Fin da piccolo l'attore volevo fare, starmene al teatro per ore e ore a recitare. Volevo sentire la gente acclamare e i ragazzi fischiare. E invece la vita l'avvocato mi ha messo a fare. Qui nessuno fa quello che vorrebbe fare. Ci dovevamo ribellare. Come i francesi, che si erano stancati di un antico potere, gridavano libertà, guaglianza, fratellanza. O come gli americani, che si erano stancati di pagare tasse su tasse per imbandire le tavole dei re e dei lord d'Inghilterra. O come i russi, contro un governo che non voleva attuare riforme agrarie per togliere qualcosa ai ricchi e per tolterlo ai cittadini. O come Gandhi. Quello ha rivoluzionato la rivoluzione. La non-violenza. E c'è riuscito. No, no, ma adesso i tempi sono cambiati. Non c'è più la voglia di scendere in piazza e di gridare, di fare, di dire. Io la rivoluzione mi voglio mettere a fare. Ho preso i miei libri d'avvocato. Ci ho detto, da oggi ve voglio insegnare tutte le mie rime, i versi di tutte le mie poesie. Io dai gesti piccolini sono partito. Dal proprio cuore. Mi sono ribellato per ogni grazie non detto. Per ogni perdono che non è mai arrivato. Mi sono ribellato per le ore per se le aspettare. Per tutte le volte che non mi sono messo ad aiutare. Per questo io mi voglio ribellare. Una rivoluzione che mi insegna ad amare.